buongiorno amici di panorama italy sono antonino fazio questa è la mia prima live oggi ci troviamo a sciacca ditemi come si vede se si vede bene compa francesca giusefina ciao domenica saluto a tutti grazie compa questa è la piazza la piazza Grazie a tutti. Ciao Giacomo, oggi 35 gradi. Oggi siamo a Sciacca, Rosa Maria. Scusatemi se non saluto a tutti, è che non vedo bene col sole lo schermo. Comunque vi saluto a tutti. Comunque vi saluto a tutti. Comunque vi saluto a tutti. Eh sì, Sciacca è veramente bella. Oggi ultimo giorno di Sicilia. Sì, ho le McBeal, hai ragione. Comunque Sciacca è città della geramica. Comunque vi saluto a tutti. Comunque vi saluto a tutti. Comunque ragazzi mi collegherò fra un quarto d'ora. Un problema di batteria. A dopo. Scusatemi. Comunque vi saluto a tutti. Comunque vi saluto a tutti.